In tempi di crisi succede, sempre più spesso, che la necessità di arrivare a fine mese prevalga sul valore affettivo dei gioielli di famiglia. La collanina del battesimo, l'anello ricevuto in dono per il compleanno o un orologio custodito nel cassetto per anni in cambio di denaro contante. In crescita il numero degli italiani che si rivolge a un compro oro, uno ogni quattro nel 2013, come racconta l'ultimo rapporto dell'Eurispes. Un dato allarmante se si considera che in un anno il fenomeno è aumentato di 19,6 punti percentuali e ciò, secondo la Guardia di Finanza, è motivo di guadagno per la malavita. Come operano i criminali? Fingono di esportare l'oro all'estero così da poterlo vendere a nero all'interno dei confini nazionali, oppure esercitano il commercio per finalità industriali ma senza avere i requisiti previsti dalla legge. Sono 86 trafficanti di metallo prezioso denunciati da gennaio a oggi, per 52 di questi sono scattate le manette. C'è tanto oro ma anche argento, fra i 179 chili sequestrati dalle fiamme giale negli ultimi otto mesi, l'86% in più rispetto allo stesso periodo del 2012. Si tratta di numeri che destano preoccupazione e che sono direttamente proporzionali alla crisi, crisi che al tempo stesso contribuisce all'impennata di coloro che cadono nella trappola dell'usura. Le operazioni condotte dalle forze dell'ordine su questo fronte contano un incremento quasi del doppio rispetto all'anno scorso e hanno consentito di sequestrare patrimoni del valore di 167 milioni di euro ottenuti ovviamente in maniera illegale. Ricorrere agli struzzini è un errore, non denunciarli è un rischio per l'intero paese.